L'effetto collaterale è una reazione avversa ed è una reazione indesiderata al medicinale che viene assunto. Gli effetti collaterali sono ovviamente considerati nocivi e dannosi per la salute ed un effetto collaterale può insorgere sia dopo la prima somministrazione che anche dopo una somministrazione prolungata. Le controindicazioni invece sono quelle circostanze che impediscono, che sconsigliano vivamente l'utilizzo di una terapia o anche di un'indagine diagnostica, in quanto appunto il livello di rischio che si sottoporebbe al paziente attraverso l'assunzione di un farmaco, attraverso appunto una diagnosi, potrebbe essere comunque molto grave, molto dannosa. Un esempio che possiamo fare è per esempio una donna in gravidanza che deve essere sottoposta a un esame diagnostico radiologico e i raggi X ovviamente sono nocivi per il feto, quindi è una controindicazione ad effettuare quell'esame. Oppure un paziente con delle varici esofagee è sconsigliato di utilizzare un sondino nasogastrico mentre è ospedalizzato. Le controindicazioni quindi rispetto agli effetti collaterali diciamo che sono una prevenzione, cioè si previene la possibilità che venga un evento avverso nocivo per il paziente. Allora l'autorità che si occupa di farmaco vigilanza in Italia è l'AIFA, l'Associazione Italiana del Farmaco, che si avvale di una rete di farmaco vigilanza che garantisce la raccolta e anche la gestione e l'analisi delle segnalazioni di sospetti e reazioni avverse ai farmaci. Esistono dei moduli sul portale dell'AIFA sia per il cittadino che per gli operatori sanitari. Tra l'altro l'AIFA stessa si fa garante di inoltro delle segnalazioni al sistema europeo di Eudra Vigilance, che appunto è un database che raccoglie tutte le segnalazioni di sospetti e reazioni avverse ai medicinali che pervengono dai vari paesi europei. Quindi collabora con le regioni, con l'Istituto Superiore di Sanità, con i centri di cura a carattere scientifico e soprattutto anche dialoga con i pazienti e l'Associazione dei pazienti, proprio per promuovere assolutamente la conoscenza, la consapevolezza dell'utilizzo dei farmaco di come un farmaco viene scoperto.